Assessore Masci, come ha influito la riforma fiscale sui comuni abruzzesi? Diciamo che questo è un processo che dura da tempo perché oramai la razionalizzazione delle spese è necessaria e quindi la governance degli enti locali deve essere trasformata. Io penso che ogni amministratore deve resettare il cervello in questo momento e ragionare per nuove prospettive. Quindi c'è la necessità di associazioni di comuni o di convenzioni per servizi in forma associata. La norma stabilisce che i comuni fino a 1.000 abitanti devono necessariamente o associarsi o convenzionarsi per svolgere tutte le funzioni in forma associata e quelli da 1.000 a 5.000 abitanti associarsi o convenzionarsi per svolgere le funzioni fondamentali in forma associata. C'è una necessità di razionalizzazione della spesa, c'è una volontà di dare maggiore qualità nei servizi per i cittadini. Questo è il processo che si attua nella normativa 148, la legge 148 del 2011. La necessità della regione, la volontà della regione è quella di confrontarsi direttamente con tutti i comuni per stabilire quali possano essere gli ambiti ottimali, quale possa essere il numero ottimale per svolgere le funzioni in forma associata sia per quanto riguarda quelle fondamentali per quanto riguarda tutte le funzioni. Per questo il confronto passa attraverso questi incontri che stiamo facendo nelle quattro province. Oggi siamo a Teramo, nei prossimi giorni saremo all'Aquila e a Chieti dopo aver incontrato già i sindaci dei comuni del Pescarese perché noi vogliamo decidere sentendo i territori, questa è l'unica volontà che ci interessa, per far sì che i cittadini abbiano una migliore qualità dei servizi e che le risorse a disposizione sempre meno siano utilizzate nel miglior modo possibile per un risparmio effettivo e soprattutto un risparmio che permetta comunque di dare i servizi ai cittadini. E invece i tagli come hanno influito sui comuni abruzzesi? Intanto la regione tre anni fa era la regione più indebitata d'Italia, ricordiamocelo sempre perché quello è un faro che dobbiamo tenere sempre acceso per evitare gli errori del passato. Da tre anni a questa parte la regione Abruzzo non fa più indebitamento, nel senso che spende i soldi che ha a disposizione, cioè quello che si doveva fare in passato, che non è stato fatto, oggi si fa, si spendono le risorse che sono a disposizione. Con quelle risorse si danno servizi ai cittadini e proprio perché sono meno risorse rispetto al passato perché prima si facevano i debiti e oggi non si fanno più e proprio perché oggi con la parte delle risorse che abbiamo a disposizione dobbiamo pagare i debiti fatti in passato, dobbiamo fare in modo che quelle poche risorse che abbiamo libere e quindi i fondi europei, i fondi nazionali o i pochi fondi regionali vengano utilizzati nel miglior modo possibile sul territorio e quindi vengano utilizzati con una razionalizzazione delle spese efficace. Questo è il processo che abbiamo attuato e questo processo passa necessariamente attraverso il confronto con i comuni, con le province perché oggi ognuno di noi, ogni amministratore deve ragionare sapendo di avere a disposizione poche risorse per dare le risposte ai cittadini. Lo stiamo facendo, non siamo più la regione più indebitata d'Italia, ci portano come esempio virtuoso per tante scelte che abbiamo fatto a cominciare da quella dell'eliminazione del vitalizio, dalla riduzione dei costi della politica che noi abbiamo concretamente attuato mentre le altre regioni dovranno fare nei prossimi mesi, diciamo che stiamo lavorando, è un lavoro complesso ma che non ci spaventa perché sappiamo che l'obiettivo dobbiamo raggiungerlo è quello di dare servizi ai cittadini.